Il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo si è impegnata a convocare, subito dopo Pasqua, un incontro istituzionale cui imprenderanno parte il presidente della provincia di Foggia Antonio Pepe e i parlamentari eletti in Puglia e in Molise per discutere delle indagini geosismiche nel mare Adriatico. E' l'esito dell'incontro di Roma avuto tra il presidente dell'ente di Palazzo Dogana e con la titolare del Dicastero dell'Ambiente. Al ministro Prestigiacomo Antonio Pepe ha consegnato una lunga missiva inerente al decreto di via del 29 marzo scorso, con cui è stato concesso alla società PetroCeltica Elsa il permesso di effettuare indagini di ricerca per verificare l'eventuale presenza di idrocarburi nel mare Adriatico. La lettera sollecitava il ministro ad aprire un tavolo di confronto per discutere della questione e valutare il progetto della società irlandese nelle sue implicazioni ambientali. L'apertura al dialogo manifestata dal ministro Prestigiacomo ha commentato il presidente della provincia Antonio Pepe senza dubbio un fattore positivo sul quale è possibile ora costruire un confronto che metta la Puglia e la provincia di Foggia nella condizione di esprimere il loro parere.